Adesso parliamo di Riccardo Sbertoli, talentuoso palleggiatore 22enne della Power Volley Milano, l'anello di congiunzione proprio della storia del pallavolo di Milano, ufficiale sul rinnovo di contratto, passato, presente e futuro, pronto a vestire per altre due stagioni la maglia della squadra della sua città. L'abbiamo incontrato. Felicissimo di proseguire questa avventura con questa società, con la squadra della mia città e un rinnovo che mi riempie di gioia perché la società ha dimostrato veramente un grande interesse nel continuare con me e a darmi qualche responsabilità in più, quindi sono molto felice che la società abbia apprezzato i miglioramenti fatti insieme in questi ultimi anni. Quindi l'anno prossimo sarà il sesto anno con la maglia di Milano e non vedo l'ora di iniziare.